Ciao, sono Simona Vlaic, faccio parte dell'associazione Tesso e anche della comunità dei Restart a Storino. I Restart a Storino sono un gruppo informale di associazioni di realtà differenti che si occupano tutte in maniera differente ma insieme di recupero, riuso, riciclo. Oggi qui a Bedovistoli siamo venuti proprio per parlare di riuso, abbiamo portato uno dei nostri eventi, un Restart Party, nell'arco di tre anni ne abbiamo organizzato circa una trentina, i Restart Party sono degli eventi di riparazione assistita collaborativa, cioè sono eventi durante i quali gli utenti portano i loro dispositivi elettrici ed elettronici guasti e insieme proviamo a ripararli. L'idea nasce a Londra da un NGO indinese che si chiama del Restart Project che ha inventato questa modalità di diffusione della cultura, del riciclo e del riuso e della riparazione tramite questi eventi itineranti che coinvolgono i cittadini e li portano a sperimentare direttamente la possibilità di recuperare e di riparare anziché buttare. Grazie. 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 Grazie.